Le crociate moderne si fanno in autobus. Billy Graham, che è il goffredo di buione dei nostri tempi, torna a Los Angeles, da dove era partito 14 anni orsono per combattere la sua battaglia in 50 paesi dei 5 continenti. 38.000 persone giungono da ogni parte degli Stati Uniti per ascoltare al Memorial Coliseum il discorso del dinamico pastore evangelista. Billy è un goffredo di buione che deve aver fatto i suoi studi ad Hollywood. Ricorda più i divi del cinema che i predicatori. Tuttavia in 14 anni è riuscito a convertire un milione di infedeli alla chiesa evangelista. Dopo la prima crociata ha deciso di intraprenderne una seconda. Vuole salvare il nuovo mondo dalla crisi spirituale che lo minaccia.